Ciao oggi a richiesta facciamo l'analisi di Advanced Micro Devices già solo guardando graficamente chi mi conosce già sa già cosa sto per dire e non ci vuole un genio capirlo nonostante ci siano fatturati in costante crescita da 4 anni per il momento si vedono pochissimi utili anzi più precisamente in questi ultimi 4 anni AMD ha fatturato circa 20 miliardi di dollari per un utile totale di meno 2 miliardi quindi in sostanza in 4 anni ha perso quasi 2 miliardi di dollari quindi già solo per questo io fermo l'analisi perché se mi conosci sai che non ha senso per me investire in una società che non fa utile ora se vuoi un indicatore ti lascio il link in descrizione e ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti ciao